Adesso? A posto A parte gli scherzi siamo qui a provare un CRGS F4 di Reisland Altavilla e nulla, vediamo cosa riusciamo a fare Allora, tutto sommato, il primo turno non è andato neanche malissimo ho girato in un minuto e un secondo mentre uno dei miei compagni di squadra di Reisland ha girato in un minuto e un secondo e qualcosa in più rispetto a me poi nel corso dei turni sono migliorato notevolmente A presto! E niente, ringrazio i ragazzi di Reisland Altavilla i meccanici e il team per avermi fatto fare questa esperienza questo pomeriggio e niente, ci vediamo alla prossima e ricordatevi che chi sperona vince! A presto! 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 A presto!